In nomine Patris e Filii e Spiritus Santi. Amen. Maria, Sede, Sapientiae, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, anche oggi proseguiamo il nostro cammino nel discorso che riguarda il sacrificio di Cristo nella Messa. La Messa come sacrificio di Cristo. Abbiamo detto la volta scorsa che ciò che Gesù ha compiuto sul Calvario, cioè la sua passione e la sua morte in croce, sono più che sovrabbondanti per perdonare tutti i peccati degli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Il sacrificio di Cristo basta per ora e per tutta l'eternità. E quindi è unico, non c'è bisogno che Gesù torni a morire e torni a soffrire come ha sofferto sul Calvario e sulla croce. Basta quella sofferenza, basta quel sacrificio per perdonare tutti i peccati. Il sacrificio di Cristo quindi è unico, non può essere ripetuto, non ha senso ripeterlo, ed è eterno, cioè vale per tutta l'eternità. Egli è l'unico ed eterno sacerdote. Gesù è anche l'unica ed eterna vittima valida per la redenzione degli uomini, per la redenzione del mondo. Quindi non ha senso una ripetizione di questo sacrificio. Ora Gesù Cristo vive nella gloria, seduto alla destra del Padre e intercede per noi, finché non giunga il momento del suo ritorno per giudicare tutte le genti, e per instaurare il suo regno, per mettere sotto i suoi piedi tutti i suoi nemici. Ma ormai quel sacrificio è stato compiuto. Non resta allora che attingere a quel sacrificio affinché noi possiamo ricevere il perdono dei nostri peccati e offrire a Dio un sacrificio degno. Quindi vedete che non è come dicono alcuni, siccome Gesù ha già perdonato tutti e non c'è più bisogno di penitenza, di sacramenti, di tante cose, perché Gesù l'ha già fatto una volta per tutte. No, quello lui l'ha fatto. Ma la salvezza portata da Gesù deve ancora passare in noi e anche in tutti gli uomini che nel futuro vorranno avvalersene. Quindi è necessario che quel sacrificio venga applicato alle comunità, ai singoli, attraverso un rito speciale, che poi vedremo è il rito della Santa Messa. Ebbene, andiamo avanti quindi. Quindi gli uomini non sono dispensati da rendere un culto, perché Gesù l'ha già fatto. Non sono neanche dispensati dall'essere veramente uomini. Vi ho detto negli incontri, negli interventi passati, che è della natura umana offrire qualche cosa a Dio per rendergli culto. Fa parte della natura umana. Quindi noi non siamo dispensati da questi omaggi anche concreti, anche materiali che si traducono in riti per esprimere il nostro sentimento interiore di adorazione. Potremmo fare un esempio che è molto comprensibile. Lo Stato, qualsiasi Stato, possiede una riserva aurea, cioè un tesoro, però questo non dispensa i cittadini dall'uso quotidiano della moneta corrente, degli assegni, delle carte, di questi mezzi equivalenti. Non dispensa, anzi è necessario che i cittadini possiedano questi mezzi per poter compiere gli scambi commerciali e vivere decentemente. Quindi, se quella moneta corrente che tengono nel portafoglio ha valore, ha valore grazie alla riserva aurea che lo Stato ha nel deposito. Capite che la riserva aurea rappresenta il sacrificio di Cristo. La moneta circolante, invece, rappresenta la nostra partecipazione a questo sacrificio per mezzo dei riti. Quindi, questo rito, questo rito che è necessario per poter attingere alla questa riserva, a questo tesoro, non deve essere tale da togliere o diminuire il valore del tesoro stesso, né può sostituirlo. La messa non sostituisce il sacrificio di Cristo sulla croce, non toglie al sacrificio di Cristo il suo valore, non è neanche un completamento, come se al sacrificio di Cristo sulla croce mancasse qualcosa che la messa completa. non è neanche la ripetizione, la reiterazione del sacrificio di Cristo. No, quel rito deve essere lo stesso sacrificio di Cristo sulla croce per l'uomo di ogni tempo e di ogni luogo. E' lo stesso sacrificio medesimo uguale che viene messo nelle mani della comunità, cioè della Chiesa, affinché ognuno ne possa attingere. Un ultimo esempio, abbastanza pare efficace, è questo. E' quando un autore, l'autore di un libro, spende il suo tempo, le sue energie, le sue fatiche per scrivere un libro, un'opera e poi la pubblica. Ecco, questa operazione la fa una volta sola. Non è necessario che poi ritorni a spendere tempo, fatica e salute per scrivere lo stesso libro. Basta una volta sola. Mentre affinché i lettori possano usufruire di quell'opera e possano leggerla, c'è bisogno che quell'opera venga stampata in tante copie e magari anche in più edizioni, in modo da renderla fruibile al maggior numero di persone interessate. Ma quelle copie, ciascuna di quelle copie, non è una cosa diversa da ciò che l'autore ha scritto. Capite? E' la stessa opera che però viene messa a disposizione delle persone. E con questo pensiero concludo ricordandovi appunto l'iscrizione al canale YouTube Don Enrico Maria Roncaglia per poter collegarvi anche senza Facebook e ricevere comunque le notifiche dei video pubblicati. Vi ringrazio dell'ascolto. Procediamo nella preghiera, nell'unione e nell'amore a Gesù e Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Vi benedica di ogni potente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.